Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MacPizzell Oggi farò le serie un po' di... farò un giorno Left 4 Ted, un giorno Abe, un giorno MacPizzell Iniziamo subito con questo Ma no! Si mette pure a piano Iniziamo con questa prima porta Capture One, Round One, Easy Comp, MacPizzell Salve il giorno Ok MacPizzell Ok, prendiamo questo Andiamo qui Non era questa la soluzione giusta Benissimo Andiamo qui MacPizzell Ok Non era questa la soluzione Questo gioco è fantastico, cioè è proprio uno di quei giochi che farei Abbiamo salvato Siiii MacPizzell 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 Siiii Siiii Vabbè MacPizzell La bucca mia Non era questa la soluzione giusta Ok, la scuola Vediamo un po' MacPizzell MacPizzell Ehm Ehm Non era manco questa la soluzione giusta Pensavo di farli andare via Ritorniamo all'isola di nuovo MacPizzell Come si torna indietro Come si torna indietro Vabbè Non si è capito che cazzo ho fatto Non era questa la soluzione giusta Non so manco che cazzo devo fare Il vulcano, allora Ehm Inserirci Infermiera Buttiamola via No E non era manco questa la soluzione giusta Ci sai che cos'è Non si capisce MacPizzell Questo Qui No Manco questa la soluzione giusta Allora Rimuovo la scuola Mh Fisseo Trofeo Fuori alla finestra Mettiamola a lui A lei Ce l'avevo fatta non so come Cioè Cosa è Fuori dal normale Vabbè A lui Devo conquistare l'ultimo Ah l'edificio E l'ospedale Allora oh mio dio meeeh pizza ce l'abbiamo fatta round bonus no credo che non ce l'abbiamo fatta meeeh pizza ah il vulcano uno nella lava no neanche qua c'è la soluzione giusta il treno vediamo il treno cosa può essere no sono un pirla l'avevo già fatto forse ho capito cos'è quello del treno no neanche questa è la soluzione giusta non ci sa qual è no manco questa è la soluzione giusta mi sto intrapando sugli ultimi due livelli eh non è buona questa cosa questa la soluzione giusta è semplice buttarsi nella lava eeeh no lo so lo sto provando tutto meeeh pizza no questo aia e beh oh finalmente ci siamo riusciti di la porta numero due saltiamo il giorno su chapter one round two boomer boomer save the day benissimo party beeeh pizza allora mela da lui non era questa la soluzione giusta e vabbè ci siamo ci abbiamo provato beeeh pizza eeeh fattumiera eeeh questa è la soluzione c'è così vabbè beh qui c'è il pool nella piscina questo muti in acqua penso che non sia quella la soluzione giusta e infatti ma non è quella la nostra soluzione allora prendiamo questo già sette minuti di video sto andando bene per essere non ho mai capito sto gioco ma comunque non era questa la soluzione giusta allora aereo sembra un gioco stupido ma non lo è e quello è il bene aia non era questa la soluzione giusta lo sapevo perché nelle nel nel ghiaccio allora non era questa la soluzione giusta è nuovo al party allora eeeh pizza eeeh pizza eeeh questa è la soluzione eeeh pizza eeeh una volta mi viene voglia di ridirlo tante volte eeeh pizza ok allora prendo questa niente lui si li farà male era questa la soluzione? cos'è a caso? bene bene abbiamo solo tre da fare eeeh non era questa la soluzione giusta allora vediamo un po' bomba non era questa la soluzione giusta nella glue nella glue che la glue nel ghiaccio nella glue glue cosa cos'è? pezzo di ghiaccio era lui mmm non era questa la soluzione giusta eeeh pizza ah qui prendo questa cosa verde la metto qua dentro dove c'è la bomba si era questa la soluzione giusta bene eeeh pizza ok qui credo di aver capito credo perchè c'è l'aereo apriamo questo aia no era questa la soluzione giusta ok questo credo di aver capito credo eh ah lì c'è la bomba prendo questo prendo questo credo e non lo so vediamo forse era questa si meeeh pizza adesso abbiamo solo la aereo mmm prendo questo questo mac pizza se la dobbiamo fare mac pizza mac pizza no no eh ho sbagliato mac pizza l'abbiamo capito era questa la soluzione ebbè me le toglie perchè eh mac pizza ok la terza porta mac pizza ciao capture 1 round 3 blow your mind save the day mac pizza al caffè coffee allora mmm questo 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 toccato a lui non era questa la soluzione giusta ascensore mac pizza prendo l'estintore vado al vecchio non era questa la soluzione giusta eh sottomarino mac pizza vai vediamo di scoprire tutto proviamo qui no niente questo no infatti siamo affogati mac pizza ok primitivi gli uomini primitivi vediamo cosa da qui non credo che era quella la soluzione giusta mac pizza ok questo qui tipo questo gas il ragno no posso prenderlo ok figura di merda eh questo boh prendiamo lui non era questa la soluzione giusta mac pizza è bello ma è figo questo gioco proviamo a non era questa la soluzione giusta non so quale potrebbe essere allora proviamo invece a fare così con l'istintore neanche così proviamo a prendere l'istintore allora bomba a lui neanche così non sappiamo come fare questo piccolo dilemma beh qui c'è un po' mi cestiamo allora tu aia ok proviamo invece questo che forse l'ho capito questo mettiamo qua dentro no forse si si beh per certo allora scusate se l'ho che mi fa male allora bomba neanche così allora andiamo al caffè vediamo un po' se riusciamo a scoprirlo qui no qui no questo no questo l'abbiamo già fatto non è ok ascensore allora vediamo così forse si si mac pizza sottomarino vediamo sottomarino com'è allora non era questa la soluzione vabbè certo vado a fare così logiche questo qui non è un gioco illogico capite mac pizza allora manco così la soluzione giusta non lo so allora andiamo qui andiamogli il cappello proviamo ma perché cos'è era questa la soluzione giusta mac pizza ok il coffee dai che il coffee sennò poi è un casino allora no l'ho già fatto con un coglione sottomarino manco questa allora su questo qui possiamo fare solo una cosa l'unica cosa logica che poteva essere perché mi sembrava un po' strano questo mi hanno dato l'oro proprio perché ho fatto bene se invece quello è se invece quello è mi danno cos'è? ho fatto gamma style e anche questa è la soluzione giusta ma qual è la soluzione? è impossibile è incredibile che cosa ha caso è una cosa che è vero che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è. Chi cazzo ci sarebbe mai arrivato Tirato a caso Missile In acqua Questa è la soluzione raga Ok Allora raga Per questo video è tutto Lo scopriamo nel prossimo episodio La storia di McPixel La terza porta Quindi per questo video è tutto Un saluto da Bayon Community Ciao a tutti raga